belle ragazzi sono zoner e lui è pare siamo tornati con un nuovo video di slender cioè non con un nuovo video scusate perché è il primo che mettiamo con un nuovo video siamo tornati e questa volta su slender come avevo promesso nell'altro video solo che purtroppo non l'abbiamo potuto fare perché non registrava traps adesso abbiamo scaricato la versione craccata quindi si può fare ah è spendere la luce si ragazzi siamo venuti da soli a casa almeno con la luce spenta c'è un po' di spavore in più giusto volevo dire suspense ma scaccava un pochino quindi ragazzi sto giocando io poi faremo un altro episodio se vi piace ditecela nei commenti faremo un altro episodio in cui giocherà anche dare poi ci scamberemo un pochino così spegniamo la luce ho scoperto che con E fa lo zoom e con Q togliere lo zoom ma lui ha il binocolo negli occhi eh si infatti ha il binocolo negli occhi quindi oppure prima che stavo a 160 stavo tranquillo ma che sta a 20 lo so non c'entra niente ehm vabbè se vedete dei numeri in alto a sinistra sono nove che frappse quando registra fa dei numeri fa dei numeri forse questo forse sarà qua la pagina sta qua vabbè sta qua eccolo ragazzi ecco perchè non voglio che gioco dare ehm ecco perchè voglio che gioco dare ehm dito adesso sentiamo la musica io odio questa musica ragazzi perchè no ma non lo aspettiamo non ci voglio dito dito ma se ho sentito di amore ma se ci stiamo sempre fermi quello viene eh si ci mangia ancora ah ci mangia ragazzi allora ragazzi abbiamo provato a fare un video di Call of Duty no? in cui io faccio 49 decisioni e lui ne fa 44 nella stessa partita ha fatto 59 eh scusa io ho 59 e lui 44 ecco lui ci darò il nuovo billettino eh pagina scusate ehm soltanto che purtroppo ancora non abbiamo l'HDp2r eh lo comperemo presto oooh dove si era? non guardarti dietro perchè non vuoi guardare vabbè un attimo ragazzi quando passeremo questo momento pauroso no 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 quanto pauroso no no qua non ce n'erano non lo stanno non lo stanno avanti di guardare è qua dietro vuoi vedere che esce questo? dietro questo bando eccola eccola si iscritto no ehi ragazzi adesso guardate come lo troveremo ma niente non andare nei boschi perchè oh guardatelo guardatelo non guardatelo come sta ma dove sta? ma dove sta? boh ma state eravamo video eccola eh guardatelo ragazzi ragazzi stavo dicendo abbiamo provato a fare un video di colpo non abbiamo ancora i lacchi di qr e quindi abbiamo provato a farlo con la macchinetta e ragazzi è venuto veramente a merda sempre e vabbè volevo vedere se ci si serviva praticamente a parte che è venuto una merda la prima volta la prima volta la prima volta abbiamo messo con abbiamo fatto un po' di casino e abbiamo messo ferma la telecamera no con la serie dove ho portato tutta questa ecco e abbiamo messo tipo l'impalcatura è solo che si vabbè e andando a schiacciare il tasto eeeh per registrare perchè dopo registra ad esempio tre minuti e poi si stop devo schiacciare di nuovo andando a schiacciare è caduta la telecamera ragazzi adesso esce di qua andiamo per questo punto eh no no ragazzi però va troppo lento poi se correre non si vede bene guardiamo che si vede e quindi no non lo so e quindi comunque ragazzi presto metteremo in video i cosi perchè compriremo il pp e l'hv io guardo vabbè ogni tanto parla pure tu perchè sembra che guardo solo io si vabbè eh attenzione ragazzi momento preparatevi per il momento di fare no no vabbè e poi ahhh ahhh si è sfogliato no stavo sfogliato volevo vedere che si era sfogliato mi stava seguendo mi stava seguendo mi stava facendo pp e anche i mostri quando ho pp dove sta? io ce le do ad esempio da giacca eccolo ho visto eh aspetta arriva il momento del tare cos'è il momento del tare spiegarcelo a tutti questi momenti di tare guardate non sta a parlare oh ma questo ma se ci ma la mera se no quello muore e tu inizia a parlare delle momenti di dare perché muore ma se c'è quella mania che ci segue no ragazzi è prima scagata vai continuo che fa vai fai 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 come c'è la pagina systems Sì, sta, sta, vabbè, l'ho cercato di un'altra volta Eh, guardate là I bagni Oh, cazzo No, ma possiamo entrare in bagni comunque di me Io forse che posso dire Dai, sta, sta Beh, entriamo, dai Vedere che se mi giro sta Ma che sta camminando? Sto giocando gli occhi, sto giocando le più Che so, che se mi giro sta Ah, no, no, no Io mi giro e chiudo gli occhi perché, ragazzo No, ma che se ne preghi Ah, no, no, vabbè, questo non faceva tanto Non so perché, ho fatto quasi apposta a spaventare Io ho guidato, sono perché tu hai guidato Allora, dai, ragazzi, parliamo di così po' Non è che qua, poi mi è un pro, no Non credo, mi seguo Ragazzi, è un maniaco, ci segui anche nel bando A destra, le pigiate, a destra, le Di là, di là, di là, di là, di là, di là Si, devi andare, non di qua Guarda, dove vede Ragazzi, ho paura perché adesso so che Se ci appare davanti Ho detto io No, non credo, posso entrare No, non credo, posso entrare No, non ci siamo persi Oh, è se si blocca Oh, cazzo ho paura No, non credo, posso entrare No, nel bagno niente, con la che ho perso No, ma io Ah, cazzo, mi sono perso Fai che è questa, fai che è questa Ma adesso, mi chiedeci Oh, cazzo Questa musica non mi piace Ragazzi No, no, non può da ancora E' spaventato Eh, guardate, ragazzi Non so di letto, non lo capisco Sei spaventato Ragazzi, là ci dovrebbe essere l'altra pagina Non guardarti dietro Devo guardare dietro Vuoi vedere da questa Cazzo Che mi fai morire di infarto a me Ma io sto giocando, ragazzi E lui Oh, guardate il nostro bastardo Ma Ma perché Secondo Perché ragazzi Praticamente Secondo Lui Tu Per esempio Giochi ancora più Tutti La prima missione Più difficile Lui C'è La più facile Secondo Il suo Dove cazzo Mi deve andare Il momento del tale Andia Eh Scusate ragazzi Ma Qua deve stare Qua Ti muovo 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 Ragazzi Il momento del tale E' finito Appena scagherà E' iniziato Il nuovo Unito del tale E' iniziato Il normale Ecco scagato Quindi E' iniziato Unito del tale Ragazzi Magna parola che dici Scala Sgarrare Invecchiamoci un termine Quindi Stare Pulcino Divento un pulcino Divento un pulcino Che per nome Però pulcino Secondo me abbiamo già preso No Non l'abbiamo preso Però io so Che E' iniziato Ma secondo me Un'impaggina Che diventa diventa Divento sempre E' iniziato Diamo inizio Una seconda volta Perché guarda Dovso Forse sta giù Ragazzi Doveve Starci Pabba Io non lo so Ma so Sce Forse non ci si Dove sta Tre pagine No Ci si Allora Ma Corri a tutto Gas spegnito No Questo Non può Corri Per l'esistenza Dopo No Pure Per l'involare Accendere Giusto Non è andato Ma Invece Già Ma Perché Anni tanto Guarda Sopra Da solo Dai ragazzi Ah Cazzo Cazzo Perché Guardi Dietro Che Posa Uuu Ma io me L'aspettavo Più Lontano Io ogni tanto Devo guardare Perché Almeno Non andare In mezzo I boschi Ma che Cazzo Mi devo Poi esci Schifo Cazzo Guarda Che faccio Ah 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 l'alberto non mi fa paura se ne abbassiamo tutto oh qua qua senti sarò qua oppure no ragazzi speriamo che non ti stiamo annoiando troppo solo perchè ci devi sentare ecco l'altra parte cosa me voglio 4 ma si moltiplicano ma che cosa si deve moltiplicare i bimbi no mi sembra una foca mi sta fare un po' di pelle d'oca ragazzi ma da me sta qua vabbè ma se torni il tito forse eccolo ragazzi ma una volta che non c'è guarda qua ah scappa 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 lo santo pezzo di merda è la scagata il momento di dare ora tocca a me dai adesso poi faremo un altro episodio è troppo lungo poi facciamo un altro episodio quanto sarà durato 5 minuti quindi ragazzi votate mettete mi piace se vi è piaciuto il video iscrivetevi ma non cosa dire ragazzi e commentate e commentate e commentate gli errori perchè ne faremo tanti ma grazie a voi miglioreremo ragazzi ragazzi se c'è stato uno spezzo vuol dire che ho tagliato questa parte perchè è veramente scacata la parte di dare mettete in via se vi è piaciuto il video mettete no mi piace se non vi è piaciuto se vi volete mettere delle critiche mettete critiche costruttive ho detto la stessa cosa in parole esperte iscrivetevi niente ragazzi ci vediamo fermo ci vediamo al prossimo video bella dobbio cerati ciao saluta ciao